Nuovo appuntamento con SOS Rezzo TV, siamo tornati in zona San Laurentino perché vogliamo capire che cosa succede qui insieme a Moreno che è un barista proprio qui del caffè di San Laurentino, che cosa succede con queste illuminari perché venendo qui ci siamo accorti che i illuminari non ci sono però mi spiegavi prima perché non ci sono. Sì, allora il fatto che non ci siano le illuminari è un segno di protesta dei commercianti di San Laurentino, la motivazione è perché noi ci siamo visti di recapitare circa una ventina di giorni fa un contratto da parte di un'azienda privata per l'installazione illuminare che ci chiedeva 50 euro più IVA per ogni commerciante. Noi non abbiamo sottoscritto quei contratti perché abbiamo saputo che qui in via Cavour i commercianti proprio qui di lato hanno speso 30 euro per gli addobbi natalizi e quindi da lì noi abbiamo cominciato a chiedere informazioni, prima la ditta, poi siamo stati rimbalzati al comune, dal comune alla Conf Commercio, dalla Conf Commercio alla Conf Esercenti per non avere comunque la risposta del motivo per cui noi dovevamo pagare 50 euro a fronte dei 30 che hanno pagato in via Cavour, poi abbiamo saputo anche in via Marco Perenio e in via Vittorio Veneto. Qualcuno vi ha detto perché anche la stessa azienda perché qui ci sarebbe stata una difficoltà particolare. Diciamo che inizialmente la prima giustificazione che ha trovato l'azienda quando è stata contattata è del fatto che qui era più complicato installare le luminarie ma la specifica del perché doveva essere più complicato non ci sono stati in grado di dircelo. Poi invece è venuto fuori che c'era un accordo particolare con altre zone? Ma no, sembra che da quello che ho appreso io dalla Conf Esercenti sembra che sia stata contattata questa ditta di Salerno, gli è stato dato l'incarico di installare i luminarie ma non gli è stato dato nessuna indicazione e nessun controllo sull'operato che avrebbero fatto. Quindi ipoteticamente potevano per ogni zona loro quantificare o chiedere cifre così come volevano. Allora è giusto perché qui dietro costa 20 euro in meno, girando l'angolo magicamente costa 20 euro in più. Tra l'altro ci dicono che c'è stato richiesto quanto per il corso quindi insomma questa la dice lunga. E quindi vi trovate appunto per questo gesto di protesta con la via sostanzialmente, non dico buia, ma insomma priva di quelle luci che si trovano in altre zone. Sì, perfetto. E secondo te questo poi in qualche modo danneggia ulteriormente la zona? Danneggia sì come altre cose, come altre problematiche che noi abbiamo già segnalato oramai da mesi e non arriva nessuna risposta e nessuno ci dà una mano ad uscire da questa diciamo serie B su cui siamo stati messi rispetto ad altri commercianti. Signora, lei è un'altra commerciante al negozio di maniglieria giusto qui? Ferramenta maniglieria. Ferramenta maniglieria. Allora che cosa ne pensa? Perché ancora una volta questa zona sembra appunto di serie B. Sì, questa è sempre stata una zona di serie B diciamo. Ora a parte il discorso natalizio noi la protesta dura per tutto l'anno perché il nostro problema principale è la non considerazione della zona nonostante la porta ritengo che valga Porta San Lorentino diciamo non dico sarà la più bella ma sicuramente vale una considerazione. Abbiamo questo museo che diciamo anche un bellissimo palazzo oltre le opere che sono dentro che non solo non considerato ma nemmeno conosciuto e nessuno fa niente perché sia conosciuto. Noi si sta richiedendo addirittura anche solo il semplice cartello segnaletica che esiste, esiste un museo anche qui in via San Lorentino che c'è da una vita. Tra l'altro insomma c'è la casa del Vasari, c'è insomma tante parti della città queste che non vengono assolutamente prese in considerazione. Ecco, tra l'altro il caraponto ma anche addirittura il cartello che indica il museo oltre che i problemi dell'apertura che sono noti però almeno il cartello. Sì, l'assurdo è che lo stiamo chiedendo da me, sì però non so quali sono le problematiche non le capisco, io proprio non le capisco. Questo museo c'è da una vita ma il cartello non esiste insomma. Moreno, tu hai parlato con il responsabile del polo museale toscano e che non ha dato grandi speranze. No, sotto l'aspetto dell'apertura praticamente nessuna speranza perché dicono che non c'è personale quindi più di questo non possono fare. Sulla questione dei cartelli ha rimbalzato la responsabilità del comune dice che sono anni che chiede la segnaletica del museo che il comune non provveda l'installazione. E poi c'è questa nuova ZTL che mi dicevi che dopo una certa ora... Sicuramente ne vediamo i risultati, insomma è diminuito notevolmente il traffico delle persone su questa zona quindi anche questa non ha giocato a favore certo nostro. Ma si sentiva il bisogno di questa variazione? Beh, per me no. Nel senso che c'era prima dei problemi magari di passaggi selvaggi oppure no? Assolutamente, qui il problema maggiore c'è di mattina quando ci sono le scuole ed è il momento di apertura della ZTL quindi credo che il momento critico sia quello. Ecco, avete detto che è sempre stato l'Iseghe B vi aspettavate forse con il nuovo sindaco che la situazione cambiasse? Ebbè certo, insomma uno spera sempre che le situazioni migliorino ma in realtà rimangono sempre le solite. Volevo fare un appunto anche per il discorso della chiusura della ZTL dopo le 5 che è sempre stata ai non residenti però si è ampliata anche per chi ha attività qui nella zona. diciamo un commerciante che ha specialmente qui ci sono attività che hanno diciamo mobili o cose da caricare e ora si devono anche organizzare perché non lo possono più fare dopo le 5 se devono consegnare una cosa eccetera ecco il permesso non è più consentito. Quindi, insomma, disagi ulteriori che si aggiungono a altri disagi. Assolutamente. Moreno, speriamo di venire a dare qualche buona notizia speriamo che anche queste associazioni di categoria facciano qualcosa di più. Noi ce lo auguriamo. Siamo con la speranza che qualcuno ci ascolti. Grazie, buona segata a voi. Salve, buonasera.